E insomma avete letto dal titolo Grint e Cuore non bastano a questo Cagliari, mancano due minuti, sapete benissimo che il Cagliari è la mia seconda squadra, dopo il Lecce è tifo Cagliari, io proprio di voler male a questa squadra non ce la faccio, non ce la faccio proprio. E dovessi pensare alla classifica come ho detto l'altra volta, forza Monza, ma io ad andare contro il Cagliari non ce la faccio perché è come andare contro tuo fratello, io considero il Cagliari il fratello del Lecce, per me i sardi sono come i salentini, li vedo così, forse perché avevo, cioè l'estate vengono qui dei sardi in vacanza, mi frequento con loro, so che sono allegri, simpatici E allora ho preso questa simpatia per il Cagliari, però ce l'ho da sempre. Poi nel Cagliari c'è il nostro mancoso, anche se oggi non c'è, c'è la padula, la padula mio, mamma quanto è forte la padula, c'è Pavoletti, 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 ti amo Pavoletti, ti amo, quanto amo Pavoletti, 94esimo, Pavoletti. Però niente, il Monza è riuscito a pareggiare, il Cagliari era passato in vantaggio subito, intorno al nono decimo minuto con un tapin di Tossena e Ranieri stava incartando, anzi ha incartato molto bene sia Colpani, sia Colombo, Denimota, li aveva incartati molto bene perché poi sappiamo tutti che Ranieri è un genio, un genio del calcio, anche incompreso, però è un genio, Ranieri ha da sempre la mia stima e le sue squadre sono grintose, come piacciono a me, le squadre devono essere grintose, devi vedere il sangue che ti esce dagli occhi e quando è Ranieri fa uscire il sangue agli occhi ai giocatori. Mi dispiace davvero, mi dispiace perché io vorrei che si salvassero Lecce e Cagliari insieme a Braccetto, io l'adoro troppo questa squadra. Peccato, ha fatto un bel primo tempo il Cagliari, bello, ordinato, poi il Monza ha trovato questo gol al quarto d'ora della ripresa. Io, ormai mancano 40 secondi, io spero, spero che alla fine arrivi la sorpresa in questi secondi finali. Dai Cagliari, dai che ci salviamo, noi e voi. Dai Fratelli Sardi!